al finale abbiamo deciso di provarci siamo arrivati a guaccia a guacciale abbiamo fatto una sosta pranzo mangiando verdure si mangiando un po di frutta no voglio mangiare altro e proseguiamo per gli ultimi 34 chilometri o 36 fino a non posso vogliamo fare la tirata albi comincia avere un po di dolori le ginocchia per cui vedremo che ce la fa senza tirare troppo la corda e poi poi niente prenderemo le valutazioni del caso se le cose se lei non ce la fa più ci fermiamo se no proseguiamo e festeggiamo alla riva in ogni caso festeggeremo eh no amore? ah no! claro! come te ce la faremo o no? a fare il record oggi? più o meno dobbiamo fare 101 chilometri quindi non so ma tu come ti senti? io mi sento bene quindi sì se fosse io sì vuoi farcelo o no? sì dai vedremo come vanno le cose io anche sto già pensando alla birra la birretta ciao la birretta ciao ecco dai che ce la possiamo fare bella 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 benvenuti felicità come stai? come stai? 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 stai?